È un risultato molto largo e devo dire ci sta tutto perché poi ci sono state altre situazioni, abbiamo preso dei pali, delle occasioni lamorose. Il risultato è sicuramente molto molto buono. È ripetibile quello che ha detto in panchina dopo che si è subito il vantaggio momentaneo dell'Apoel? In queste partite ci sono sempre delle svolte. Gli episodi contano, bisogna giocarle sempre con grande concentrazione. Però questi ragazzi sono molto bravi sotto questo aspetto, non sbagliano mai approccio. Qualche volta succede anche di prendere il gol, di non essere nella migliore giornata come è successo oggi. Magari dietro abbiamo sbandato un po' di più, però sono sempre molto positivi. Abbiamo un gruppo storico ormai solido e in queste cose non sbagliano di sicuro. Quindi testa al match di ritorno, testa al Frosinone con un orecchio all'altro campo di Europa League, di preliminare. No, ma è indubbio che questo è un risultato che ci permette di programmare il ritorno in un certo modo. Poi abbiamo la prima di campionato, poi subito dopo il terzo turno. Adesso inizia veramente una fase molto impegnativa e dove dobbiamo stare attenti perché ho la sensazione che, a parte il caldo che fa, possiamo pagare un po' di più rispetto all'anno scorso.